Vado! Ma hai già aperto? Io non l'ho visto! E per primo esce... Un regolatore! Così! Vediamo uscire altri cinque! Per secondo esce... GPS! Una USB che ci mancava! Eh sì, mi mancava! Chiuso a trasferire! Questo è... Sensore! La Camera Flow Control più... Il Radar! Questo insieme! Questo è pesantissimo! Un motore! Non sono grandi! Due motore! Un altro SC! Un altro SC! E un altro SC! Tre! Quattro! E un altro motore! Quattro! Quattro elica! 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 Un po' di cavetti e connettori vari, ci piegherò 6 mesi a saltare, un po' di viti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eeeh 7. Te ne danno uno di scorta? Beh. Ma scusa, dove è che era? No. Eeeh? Dove era di entrare in un'asta che pesava? Questa era più? Ah, così piccola. Questa è GPS? Ma mia! Attenzione! Ma hai detto di bere tanto? Mi sta bloccando lo stato. Chi ti ha detto di bere tanto? Ah, quello lì è quel luogo? Il culturista. Minchia è questa! Scusate per le parolacce. Ma quanto razzo è piccola! Non c'è la sopra niente. Non c'è la sopra il GPS. Ma è l'unica! Non è del piano! Mamma mia! Guardate, signori, signori! programナベzione con la riberolludi. Ancora, signori, 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 signori! Qualcora! Via la differenza da 비 ex governi e liti. Vensi con usual status di non rigdo. Scusate, l'alternina? Quanta la vogliamo comprare? Scusate, l'alternina? Guardalo! Questo è un senso di... Oh, 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 oh! Vieni a vedere? Vieni a vedere! Che ci dà questo stronzetto? In basso per i nostri figli Taglia qua? Taglia! È un po' strano, ovviamente Taglia? Ha un effetto strano E quando ti metto la posta Poi devi fare una cosa? Quando? Quando lo spendi devi fare una cosa Beppe? Tu dica, sei grande! Mi sa... Quanto ragazzi è grande? Quanto è? È più potente di quanto è grande? Sì Sei riuscito a installare gli office? Questa è santa Sì, non ho più guardato Questa è santa Sì, non ho più guardato Questa è santa Questa è santa Questa è santa Quella è la dimensione Mamma mia Che santa po' di un elico Da? Queste lì che sono da 13 se non sbaglio 11 Sono da 11 pollici Sono 23 cm 24 cm Questo è quello che abbiamo preso oggi All'incirca 700 euro di cose 98 Sono all'incirca 700 No, più di 700 euro di di attrezzatura 98 Lo vedrete montato fra poche ore